Per noi è una grandissima soddisfazione aver passato questo turno, soprattutto contro i campioni d'Italia in carica, nonché i campioni della Coppa Italia. Abbiamo dato l'anima in campo, abbiamo segnato 39 gol contro una squadra che ne finisce di solito molti di meno. Siamo veramente soddisfattissimi, nell'aria c'era qualcosa di buono già in settimana, oggi abbiamo trasformato quello che abbiamo preparato in settimana in energia positiva e l'abbiamo messo in campo. Per prima cosa farei auguri ai ragazzi di Ambra che sono meritate la vittoria. Dal primo minuto non siamo entrati bene in partita, si sono staccati subito, abbiamo perso tanta forza per recuperarli e poi ci hanno fatto di nuovo un break. Abbiamo giocato male, in attacco abbiamo segnato 32 gol, però neanche l'attacco non andava bene. Della difesa è meglio che non farlo perché prendere 40 gol, abbiamo giocato malissimo.